Ascoltare la natura ci può rivelare molte cose, lasciamola parlare. Biodiversità, l'insieme dei viventi sulla terra. Biodiversità, un bene e prezioni. Biodiversità, un investimento per il futuro. L'interazione tra flora, vegetazione e fauna è la base della funzionalità ecosistemica. Biodiversità, un patrimonio da gestire. All'Università dell'Insubria, la tutela della biodiversità diventa professione. Il corso di laurea magistrale in scienze ambientali dell'Università degli Studi dell'Insubria, forma i professionisti nella gestione e salvaguardia della biodiversità, che usano tecnologie moderne per comprendere la natura, con approfondimenti impensabili fino a pochi anni fa. Studiando la biodiversità del passato, la paleoecologia, traiamo insegnamenti per il presente. E l'osservazione della fauna e degli ambienti può essere efficientemente delegata alla tecnologia. Biodiversità, nei luoghi remoti ma anche fuori dalla porta di casa. In ambiente terrestre o acquatico, sulle Alpi o sulle sponde del Mediterraneo, in Italia o all'estero, al corso di laurea magistrale in scienze ambientali, la biodiversità è al centro. Ti aspettiamo!